Gli aumenti del costo dell'energia, del gas, del carburante e delle semplici materie prime che finiscono sulle nostre tavole stanno portando ad una costante crescita del debito delle famiglie venete. L'analisi è quella dell'ufficio studi della CGA di Mestre. A fine 2021 il debito montava complessivamente a 50,7 miliardi di euro. L'importo medio per nucleo familiare era poco al di sotto dei 24.300 euro con un incremento rispetto all'epoca pre-covid del 7,5%. Tra tutte le regioni d'Italia solo in Trentino Alto Adige si è registrata una variazione percentuale maggiore di quella veneta. Le famiglie più in rosso sono quelle della provincia di Padova seguite da quelle di Treviso e Venezia. I nuclei familiari meno indebitati in Veneto risiedono nel bellunese. Per la CGA si tratta di una situazione critica ma non drammatica. Ci preoccupa di più diffondersi del rischio usura che potrebbe colpire soprattutto artigiani e piccoli commercianti che ad esempio il caro bollette lo stanno pagando due volte. La prima come utenti domestici, la seconda come imprenditori per produrre all'interno delle proprie attività e per riscaldare e illuminare negozi e botteghe. Un fenomeno, quello dell'usura, difficile da inquadrare con dati reali visto che spesso sottolinea la CGA chi finisce nella rete di questi criminali spesso ha paura di denunciare i suoi aguzzini. E con la crisi economica, legata anche alla situazione geopolitica, le forze dell'ordine denunciano da tempo molti segnali di avvicinamento delle organizzazioni criminali al mondo dell'imprenditoria, soprattutto artigiani, commercianti e partite IVA. Lavoratori autonomi che inizialmente si indebitano per poche migliaia di euro, ma nel giro di qualche mese si trovano nell'impossibilità di restituire questi soldi perché nel frattempo gli interessi hanno raggiunto livelli spaventosi. Sono queste, secondo l'ufficio studi della CGA, le realtà più a rischio. Secondo l'Associazione degli Artigiani, lo Stato deve intervenire con massicce dosi di liquidità, ma anche incentivando il ricorso al fondo per la prevenzione dell'usura.